Nello scorso fine settimana, nella notte fra sabato e domenica di Pasqua, alcuni ignoti, dopo aver tagliato con delle cesoie una rete, hanno fatto irruzione in un terreno, situato nelle vicinanze dei serbatoi d'acqua, a pochi passi dal cimitero cittadino ad Umbertide. I ladri hanno rubato 12 tartarughe di terra, nate nel 2009, e tre cactus di grandi dimensioni, uno dei quali alto circa due metri. Non solo, ma hanno portato via anche altre decine di piante. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro. È stato il proprietario degli animali e curatore della piccola serra a lanciare l'allarme sui social, nei pomeriggio di domenica. L'appello è stato immediatamente condiviso da numerosi utenti. L'uomo, che gestisce una parte di un terreno dato e incomodato d'uso da parte di una famiglia di amici, presenterà una denuncia al nucleo CITES dei carabinieri forestali. Non si esclude un furto su commissione per aumentare il traffico illegale di animali esotici. Sarà presentata anche una denuncia alla locale caserma. Non è la prima volta che la zona interessata da questo insolito furto finisce al centro delle azioni dei ladri. A settembre 2021, pochi metri più avanti del campo dove è avvenuto il furto, venne ritrovata una cassaforte contenente numerose armi regolarmente denunciate, trafugata insieme a molti preziosi in una casa della vicina località Faldo.